Abbiamo adesso il Summer Cup edizione Lega dei Campioni, partiamo con la Coppa delle Coppe, partita che si è giocata a San Lorenzo, Barboni contro Real Momoti, due sorprese, anche se quel Real Momoti non si è riuscito a qualificare per la Coppa UEFA per il ruoto della cuffia, causa anche un inizio di Summer non proprio all'altezza, i Barboni sì, i Barboni hanno sorpreso alla stragrande. Stiamo a vedere com'è andata al campo di San Lorenzo. Finale della quarta edizione del Summer Cup di calcio a 7, sui campi di San Lorenzo va ad affrontarsi per la conquista della Coppa delle Coppe Real Momoti, arrivato dopo la vittoria conquistata i danni di Vargiolana per 7 a 6 e FC Barboni, reduci dalla buona vittoria su Atletico Pirri per 2 a 1. Sì nei primi minuti di gioco la gara si rivela equilibrata con le due formazioni che si affrontano senza timori. A portarsi in vantaggio però sono i Barboni, con l'Ai che alla prima occasione insacca la palla alle spalle di Manca. Il pareggio per i Momoti non si fa attendere e arriva al sesto con il tap in di testa di Piras, bravo ad avventarsi sulla rispinta di Farigo. I Barboni non demordono e si fanno nuovamente pericolosi con l'azione insistita di Arraes ma la conclusione del numero 7 rispinta da Manca. Al decimo arriva il vantaggio per il Momoti che porta la firma di Melis. I Barboni non ci stanno e tentano la reazione prima con Ruggeri ma la conclusione si infrange sul palo e poi con l'Ai che impegna Manca alla respinta. Svarione della difesa, Lai ne approfitta e insacca le spalle di Manca. Soli due giri di lancette più tardi, De Si porta nuovamente in vantaggio il Momoti. Continua il botte e risposta tra le due compagini, Portas sigla il gol del nuovo pareggio con una botta dalla distanza. A portarsi in vantaggio sono i Barboni con il gol al quarto di Lai. E' ancora il numero 5 in maglia blu a farsi pericoloso dalle parti di Manca che si ripete pochi minuti dopo su Ruggeri. Ma nulla può sulla conclusione da pochi passi di Lai che allo scadere chiude definitivamente i conti.